Non si arrestano le frodi informatiche e i danni degli insegni. L'ennesimo caso è stato denunciato all'URP della Questura da un uomo che ha riferito ai poliziotti di aver ricevuto, nei giorni scorsi, una telefonata da parte della società emittente la carta di credito, durante la quale l'interlocutore chiedeva se fosse stato lui ad effettuare due transazioni di acquisti online su differenti siti dell'importo complessivo di circa 1.400 euro. Acquisti online mai effettuati dal titolare della carta, che evidentemente è stata clonata, che ne ha chiesto così l'immediato blocco, indagini in corso per individuare l'hacker informatico.